8.000 di ante! Ante! Oh mio Dio! E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo nuovamente qui assieme a Nicky e sui Bebob. Ciao Bebob! Ciao Bebob! Ciao Yushin! Ah, io mi sono buttato! Mi ammazzai, mi ammazzai, no! Aspetta, no, che c'è qua dentro? Aspetta, scine, scine. Oh, guarda che c'è qua! E come lo pigliamo? A parte che io non so più dove mi trovo, giusto? Allora, aspetta, ma lei non si trovo, no, non posso andare. Eh, aspetta, venga a sinistra, venga a sinistra. Faccio quello che posso per andare a sinistra. Ok, adesso venga a te. Oh, ciao Nicky! Oh, bebo, che c'è che ho fatto andare di qua? Aspetta, 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 io mi devo buttare a andare di qua, c'è Nicky. Eh, io me ne spiegi, ma io non vedo. Ah, ok, resta lì che io cerco di... Cerco di seguirti. C'è, sì. Oh, ciao Nicky. Aspetta, vengo pure. Ah, 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 ah. No, perché, mi sa che, ecco. Ok, perfetto. Ups. Oh, no, 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 no. Sì, ma un modo ci sarà per andarci, però? Sicuramente ci sarà un modo. Aspetta, vieni, vieni di qua dai che ci incontriamo. A bebo. Ciao Nicky. Come diceva? Ma che ne so? Torniamo, dobbiamo tornare. Va se che ti mi affanculo la sable d'own, Nicky. un motivo sì se non aspetta proviamo a fare assisto non ci vuole andare io volevo fare così però bisogna del paracadute aspetta che ci provo ci ho già provato io è impossibile ok lasciamo andiamo perché magari magari ci va da questo parte che lo sa ma chi lo sa prova a passare si bravo mai prova vedi un po che c'è un bel niente come fare a salire qua c'è un segreto cosa sono quei puntini bianchi ma non lo so sinceramente sarà un segreto mannaggia la cazzo posso andare da qua salta a sinistra aspetta mi devo ammazzare va beh scendo il cacchio mi sono ammazzato visto che è bravo ok perfetto puoi salire da qua ma non servo anche non è tanto perché dove vai scusa una volta che salta poi non posso andare nessuna parte aspetta no no torna lì torna lì torna lì che fa anche se non sono sicuro però ha già io come ci vado è vero ma parca boh dicevo fare così dice voi e che serve è un merito bene proprio un merito pensa che ti va perfetto bellissima segreta poi andiamo avanti però no a post ma siete signora c'è ogni perché calentrila si muore scusa io me ne vado da qua ma vuoi sapere che cosa c'è sotto sono curioso e vai scendi prova ecco cosa c'è sotto ok ok non aiuta a sinistra verso sinistra qua non muore ma ecco perché scendiamo di qua venghi qua perché vai via via 1 e 2 yes ok aspetta la mia la sua testa vai carlo perfetta da questi due yes ma mia troppo forti è volata veramente tutto sto bisogno mi sa che non c'era oppure aspetta posso andare da qua ecco cosa qua non lo so cos'è sto cosa non lo so però arrivo pure io dove cacchio no mannaggia ma poi vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua tutto c'è qua sotto porca di quella zia è dai non facci la zia è perché vuoi farlo così scusami salto 200 lo puoi fare ma già si può fare senza complicazioni bravissimo possiamo andare tutti e due credo ci si è ma dove facciamo pepo io rimango fermo io rimango fermo se rimani fermo che arrivo subito ma questo livello è difficile dici ok e facciamo piano piano aspetti facciamo un passo alla volta così se uno sbaglia e mo io dovevo cavolo me donna ho capito non fare così io devo andare della chiesa così aspetta perfetto ti dà una spinta non ci devo andare quindi però se tu mi dai una spinta io me ne vado a sinistra e che cosa devo fare a sinistra ah andiamo a sinistra scusa vabbè va a sinistra però no ci vado io perché tu c'è il coso vai o sbagliare o miracolo perfetto mamma mia che livello sto livello c'è ti uccide il cervello mamma mia c'è mi sento che aiuto aiuto non è uno doveva superarli ma per superarli vieni qua per forza di sopra i segnali chi mi sembra sulla sua testa poi l'entrima bene va bene va bene aspetta lì conca con comodo però di superi attenzione piccole neri ma venghi qua venghi qua ma i salti va di uccidere gli ari 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 gli appunti ok andiamo molto carino sul livello abbastanza che la lingua strana mi serve la sua testa sua testa la testa salta se è la mia testa doveva questa non mi è molto chiaro cosa tu stia facendo però non mi è molto chiaro quello che minchia dobbiamo fare a occhio capito aspetta ok salta alto e ora salta no perché se arrivi la panna giù ma perché salta doveva dare un attimo no se vado a sbattere le corna salta vuoi vedere se tu puoi salire per questo amato c'è le corna tempo no volevo vedere se le potesse salire salta tu devi salire in qualche modo è già sono sceso così ma posso fare così per certo fallo resto questo che bravi teoria non serve che io ti faccio tutto sto facendo da solo ma disgraziato ma perché mi hai buttato tanto buttato tu caristi non mi di la pia oh no a tutte queste cose moriamo prima non ci spavano di moriamo ora poi si vabbè maria c'è una compo che stretto sbattò la testa è abbastanza stretto o venghi signor nicchia mi dà la testa e mo mi dà la testa ok poi saltami in testa eh perfetto no non si fa proprio così per niente no no io non posso andare qua no aspetta poi ci siamo proprio messi perfetto devo dire che siamo abbastanza messi bene si ma un acqua di che poi scendi sotto e poi ma giusto di qua ma giusto devo passare ok fai il trucchetto di prima non si può fa hanno giusto lo frego aspetta ok a posto a posto ma è svisto facile 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 vissi siamo rinconi uniti un attimo ok tutto tutto scuro ho finito chiesa c'è 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 mi sono spaventato quanto sei brutto pepo però ne fa impressione altre che fatti guarda sembri un motivo con le cose l'accoppiamento cellulare niente accoppiamento su lei non vedo più niente questa cosa no 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 senza che non si vede un cazzo no è dovevo e chi la pria aveva non più non più i punti tutte pesce no no si è tutte pezzi all'aspezione che non vedo un penne non bello c'è la media vicini è vero è vero la collaboration prende punti già dobbiamo stare vicino a tia lottari e non si vede niente se siamo lontano si aspetta non ti preoccupa anche senza vedere ce la so farvi perché vieni salta arriva saltami sulla testa stati fermo no niente devi fare facciamolo insieme vieni qua perché scusa non c'è dobbiamo andare la somma e no come facciamo dobbiamo andarci tutti e due avanti per il sicuro come dici tu mi sa che non funziona ma esatto vieni qua visto che ci vuole e ben scusa sotto chi li piglia è ragione vuole prendere sotto a prendere sotto a facciamo uno sopra uno sotto a sto è molto meglio aspetta non possiamo fare un cazzo sotto per forza vieni qua non possiamo agere già visto quel certo non lo possiamo fare venga qua esatto ok non vedo niente va bene andiamo avanti andiamo avanti ok ok tu devi rimanere là si vedono gli occhi maria a cazzo verrà va fan culo tutti i punti persi vabbè dai vai tenete a saltare stai la ma se no prima prende a meno questi perché non mi ha dato una mano questa roba porta questa roba vale roba non saltare stai fermo non lo so aspetta a meno tra spinta perché non si dai aiuto chiesto coso anche un amico tuo amico mio salitemi a salire è già ma devi salire sopra come fai non lo so andiamo avanti però da sotto un metodo sceso sega una bella una bella camoria questa puoi saltare anche senza di me tirami una corda bebo e si unicchia dove c'era le corde se ogni va bene ma io più di qua non posso andare a petto e con ciò io non ci sto capire niente allora allora se si vedesse sarebbe anche più carina come roba eh diciamo se si vedesse aspetta sto vicino aspetta scendi no mettiti su quella pietà pietà ped cosa la e non fai niente salta la la merda no non ci arrivi ah no 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 giusto vieni qua vieni qua ritorna ritorno dove eri prima no ritorna indietro vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua no non questo dove saltare dove ero ritorno dove dove salta devi saltare sulla pedana gialla vai salta dalla da destra salta sulla pedana gialla salta e stai fermo a sinistra ma quando si è preso la pedana ok perfetto vieni vai uno sopra uno sotto vai perfetto si oddio doppia fregata si fermi si fermi si fermi ok aspetta perfetto yes salta diciamo che alla signor nicchia lo dobbiamo superare sono ok perfetto vai prendi punti e yes andiamo ok e lo siamo e salti 2 salto io non è proprio e dove davanti ok no cazzarola dove salire vabbè andiamo tutti ma sai ce lo senti almeno diciamo che ho ucciso il mio compagno è stato da fare da sola adesso è ma io quello che deve morire aspetta 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 facciamo passare prima quei due sgraniati petta aspetta vai ok non vedo un mio mano e la passiva attenta che la sbattire corna però shit sono caduto sopra aspetta un attimo c'è subito da un attimo aspetta un attimo e non mi serve la testa mi piace la mia testa non è così mi piace la sua testa e questione che comunque la salgo primi allora non c'è mai veloce ma veloce ma veloce a destra e salta lì si lo faccio proprio così è proprio da minuto a testa da minuto a testa salti poi non si vede un cazzo signor nicchia e combattere una linea che volevo di schivali 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 che li ammazzano faccio o ma dammi la tua testa dammi la tua testa facciato io dai ma li freghiamo sì ma oramai andiamo ok con la luce non mi dispiacerebbe con la luce ma io vado sopra quello non mi piace quel tipo che soltava che non mi salta devi saltare da qua devi saltare da qua poi salta facciamo il fallo una pedana più piccola potevano fa ok e ora tu devi stare fermo ok mo io devo avanti va avanti va avanti va avanti ci deve essere una parete non c'è la pedana ok e sto fermo perché non so che devo fare allora va bene vai e vai avanti a destra sì sì c'è il muro tu ciò tu devi andare avanti ok ok aspetta che risulta crescendo ma la bia bia ok faceva lo stesso discorso va bene salito ma il spaccolo perfetto ok e spacco io mai preso va avanti niente uguale a me forci stai così per riuscire a bastava fare così apposto pianiano sono un deficiente apposto che lo scuso mai alla per favore mai figurati ma siamo rinconi e pepo se siamo fortunati troviamo un po di lava abbiamo finito al 100 su 250 volendo volendo stiamo migliorando è più o meno ok però ho visto ok ma è più da un po di lava albi quando salti vabbè salto io fai uno due tre yes aiuto aiuto